ciao 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 benvenuti 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 in un mio nuovo video ASMR oggi farò solo i suoni con questo tutto bello morbido spero vi rilassi vi tranquillizzi vi faccio fatto dormire vi lascio il suono senza parlare senza parlare immaginate sempre di essere su una spiaggia col sole il caldo e le onde del mare che arriva che arriva arriva chiudete gli occhi e immaginate che è il caso che sta a spiaggia che non 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti.